Inserire Comiso tra i comuni Unesco del Valdinoto è quanto discusso durante un apposito incontro tenuto appunto a noto alla presenza anche dell'amministrazione comunale della città casmenea. Avevamo visto bene nel marzo del 2021 quando per colmare una colpevole mancanza di anni abbiamo chiesto al sindaco di Noto di avviare il percorso di inserimento del nostro comune tra quelli facente parte del sito Unesco del Valdinoto, spiega il primo cittadino di Comiso Maria Rita Schembari. Infatti mercoledì scorso si è tenuto un importante incontro all'aula consigliare del municipio di Noto tra tutti i rappresentanti sia dei comuni già facenti parte del sito sia tra quelli otto rimasti fuori, Comiso compreso. Sono consapevole, continua la Schembari, che l'iter non sarà di breve durata ma come avviene quando si ha una visione più ampia non si opera solo per l'immediato futuro ma anche per azioni e misure che produrranno i loro effetti in futuro. L'idea lungimirante di fare inserire il comune di Comiso tra i siti Unesco è nata dalla consapevolezza che il nostro territorio ha un ingente patrimonio tardobarocco di beni architettonici, artistici e culturali che sebbene valorizzati possono e devono diventare strumento di incoming turistico con tutto ciò che ne deriva per l'industria stessa del turismo. L'inserimento tra i siti Unesco puntualizza ancora Maria Rita Schembari porterebbe la nostra città alla ribalta internazionale grazie alla vetrina che può offrire e che sicuramente non è di indifferente caratura. Ad oggi sono pochissimi i siti Unesco ufficialmente riconosciuti ma l'amore per la nostra città, conclude il sindaco, ci ha fatto piantare un seme di cui speriamo raccogliere i frutti in termini di importanza, visibilità, di turismo e di accrescimento economico per l'imprenditoria.